Crisi di vocazioni. Con l'arrivo di sei sacerdoti indiani e rumeni ci saranno più preti stranieri che italiani nella diocesi di Pesaro. I sacerdoti secolari sono 57, di cui 30 sono in pensione o alla casa del clero o nell'istituto di padre Damiani. Dei 27 attivi dunque sul territorio pesarese, 16 sono stranieri, più della metà. Più volte l'arcivescovo Piero Coccia ha sottolineato la crisi di vocazioni, tanto da richiedere protempore l'aiuto da diocesi esterne. Una situazione temporanea di tre anni è rinnovabile in caso di mancanza di vocazioni. La diocesi attualmente è divisa in 54 parrocchie che si estendono su 287 chilometri, sono raggruppate in sei vicarie e 13 unità pastorali, raggruppamenti resi necessari anche per la mancanza di sacerdoti. Intanto, movimenti importanti sul fronte delle parrocchie, perché dopo 51 anni di servizio nella parrocchia di San Paolo, Don Marino Mancini ha lasciato il posto a Don Alberto Levrini, che si insedierà ufficialmente il prossimo 23 settembre. Sabato 15, a San Giovanni Bosco, in Osteria Nuova, si insedierà come nuovo parroco il sacerdote rumeno Don Marcellino Rediu, che subentrerà a Don Lorenzo Volponi, al quale domenica 16 verrà ufficialmente affidata la parrocchia di San Martino. Dunque, l'arcivesco Coccia ha reso noto che con l'arrivo in diocesi di quattro sacerdoti indiani e due rumeni, gli stranieri supereranno gli italiani.